Riscoprire il rapporto con Dio attraverso la lettura pubblica delle Sacre Scritture e questo è il messaggio emerso durante l'evento domenicale organizzato dal Centro di Preghiera e Restaurazione. In occasione di 500 anni dalla riforma di Lutero, un centinaio di volontari appartenenti a varie confessioni si sono ritrovati a Grotta Minarda per un appuntamento dal titolo Una Nuova Alba, riflessi sulla nostra società. L'importanza di riscoprire il nostro rapporto con Dio, crediamo che la società odierna ha urgenza di riscoprire il rapporto con Dio e il senso della vita e la riscoperta di questo rapporto passa attraverso la riscoperta della scrittura, perciò stiamo qua leggendo in tutta la giornata la parola di Dio in particolare quindi questa lettera romana che ha scatenato delle profonde rivoluzioni non solo in Lutero ma anche in altri uomini, ricordiamo Agostino e altri e invitare la popolazione a fare questo gesto, leggere la parola di Dio. La parola di Dio non è nostra, non è nostra prerogativa, non è nemmeno della Chiesa Cattolica, la parola di Dio è di Dio quindi abbiamo lanciato questo appello a tutti, di ogni credo e confessione, tutti possiamo, dobbiamo leggere la parola.